Salve a tutti giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video Oggi voglio parlare un po' di un argomento molto carino No nel senso, vabbè, oggi si parla un po' di Mazzini for Fun E di quanto cavolo di potenziale hanno Perché allora, ieri mi sono messo a fare qualche partita È stata una giornataccia Mi sono messo a fare qualche partita così, tanto per smagarmi E ho utilizzato il Iceborne a me piace tantissimo Anche perché puoi utilizzare tantissimi mostri sincro, Xyz Puoi buttarci tantissima roba Il Mazzini ha tantissimi extender Ovviamente rimane for Fun, ha tanti limiti Però, comunque, diciamo che ho fatto delle ottime partite Anche con mazzi abbastanza discreti Quindi diciamo che, ora come ora, i Mazzini for Fun Hanno tanto potenziale, l'ho tanto detto L'ho espresso più volte Ho chiarito molto bene il mio parere su questo tipo di deck Che con poco ti riesce a portare a casa un buon prodotto Un buon mazzo che può fare le sue giocate tranquillamente Che può vincere anche in match abbastanza complicati Può, non sempre, raramente Battere anche mazzi molto più forti Perché ci capita sempre che comunque Quella volta il mazzo ti riesce a vincere con deck molto più forti Ci sta, ci sta Che è la legge dei grandi numeri Ci sta E soprattutto mazzi che magari come Iceworld Che hanno tante risorse, diciamo Come posso dire Catastrofiche No, delle soluzioni drastiche Nel senso sfasciano tutto o niente Quindi diciamo che il mazzo di per sé È stato molto È un mazzo molto, molto discreto Vi faccio vedere un pochino la lista È anche un po' da aggiornare Comunque vediamo un po' di extender Si può giocare da con il giudizio facilmente Anche il BLS E tutta tranquillità Quando parte primo ti fa magari la Minerva Ti può fare l'FA Drunkster che blocca Può fare Bagusca Che qui non c'è Appunto ho detto da aggiornare Che ieri ho messo ma non mi sono Non l'ho rimesso qui Comunque c'è anche Bagusca che può blocchiare Quindi quando parti di primo Puoi avere un po' di control Io sto sempre bene a non utilizzare tutte le risorse Quando parto primo con questo mazzo Quando parte di secondo può fare il devasto Ieri ho fatto un po' di partite E ho beccato mazzi come appunto Lo Speedroid Crystal Clearwing Che praticamente ho arato Ho arato perché praticamente mi aveva concluso Il primo turno con il Crystal Clearwinged Synchro Dragon E il Clearwing che comunque mazzi come l'Iceworld Possono essere molto deleteri soprattutto anche il Clearwing Perché blocca gli effetti di livello 5 superiore E il Crystal Clearwinged Nega e si pompa Quindi potrebbe essere complicato Io tranquillamente cosa ho fatto? Special di istruttore fotonico Normal di rete Non ho attivato nessun effetto Ho fatto direttamente il Drago Berserk Del Tenni Ho sfondato di mazzata il Clearwinged Si è pompato Quando si pompa non è un effetto che parte A quanto pare Quindi o il player ha ammissato la mossa Ma non credo perché l'ho rifatto O comunque non poteva attivarlo in risposta Perché non era un effetto attivato Quindi si è pompato il Berserk fino al 5500 Ha riempito di mazzata anche l'altro Clear Clear Crystalwinged Dragon Quindi diciamo ho vinto svariate partite In questa maniera Il Berserk Tanta roba Perché Raga Kuiper Lo so sembra un meme Però ho sfasciato anche la DPE Perché comunque la banna Quando parte l'effetto Il Berserk la prende e la banna Ovviamente il mazzo non era fortissimo O almeno secondo me l'aveva un po' briccato Perché mi aveva concluso Con la Fenice E poi non mi ricordo con che altro Quindi era facilmente autabile Comunque Vedete le soluzioni budget Possono essere buone Anche per carte abbastanza Abbastanza deleterie Poi ho avuto un altro scontro Contro Questo è stato Molto più complicato Perché questa l'ho persa Perché c'era anche il buon Dragon insieme C'era un mazzo un po' più forte Ma comunque sono riuscito a dare il filo da tolcere Quindi diciamo che Più o meno Più o meno Mazzi Mazzi e l'Iregg Poi che ho fatto? Ho beccato anche un Brandend Il Brandend è stato molto complicato Da poter Da poter affrontare Allora Mi pare che ho vinto Un paio di partite E ne ho perse Altre tante Quindi diciamo che non ha fatto neanche Così tanto schifo Perché comunque Un po' di negate Ce l'avevo Qualcosa per sfasciare Ce l'avevo Ho bloccato Cioè ho fatto partire Gli effetti Dell'Ice Blade Quello che banda una volta sì Una volta no Un po' Gli ho fatto il bluff Quindi ho trovato delle cose Che potevo Tranquillamente evitare Lui mi ha bandato quello E poi sono riuscito comunque A canare tante altre roba E Riuscire A sfondarlo Quindi Anche in mazzi un po' più forti Se l'hai cavicchiata Poi ovviamente Ho giocato con un bellissimo Contro bellissimo Chain Barn Bellissimo proprio Qui l'ho Qui sono riuscito a vincere Perché a forza di abilità Risolutiva Ho fatto per Dell'avversario Perché con Mikion Quando ti attacca Praticamente l'op Non si piace Dando di battaglia A me di mezzo Life Points Con i suoi bellissimi Oshama del cavolo Il trio Oshama È stato un po' complicato Ma comunque Quando mi attaccava Abilità risolutiva Manetta Quindi si beccava i danni Questo rimaneva in campo Perché l'effetto Era negato Durante il mio turno Ho tolto tutti gli Oshama Facendo link strani E tutto il resto Quindi sono riuscito Ad avere soltanto Un mostro Quindi potevo attaccare Lui aveva Mina mistica Ovviamente Poi con l'abilità Risolutiva Gli ho negato L'effetto A Mikion Quindi L'ho picchiato Selvagiamente In game Come se non ci fosse Un domani A questa carta E quindi Sono riuscito A sfangarla Anche con il Cielo in Barn Che diceva Cielo in Barn Sì Rimane comunque Molto fastidioso Perché giochi Contro la Mina mistica Quindi Ricordiamo Che è sempre Una delle più grandi Rotture Dei giocatori Di Yugi Non è il mazzo Ultra mega fortissimo Ma comunque Sempre fastidioso E sono riuscito A battere Anche quello lì Poi ho beccato Un mago nero Che sono riuscito A darare Molto facilmente Anche perché Combinazione Nightmare Phoenix È lì là E spacchi Tutte la magia trappola Che ti pare Quindi Sono andato Abbastanza bene Non male Non male Poi L'exciton Che sfascia tutto È sempre Molto buono La combinazione La combinazione Calo 2 Judgment Più BLS Per Bittare Rimane Sempre Una delle più Classiche Quindi Il mazzo Alla fine Mi giochacchiando È riuscito A fare Belle cose Belle cose Io comunque Rimango sempre Nell'ambito Forf1 Era giusto Per dire Che comunque Adesso Facendo un mazzo Forf1 Riesci comunque A giochichiare Con qualsiasi Tipo di mazzo Ovviamente Con un mazzo Tipo 8 negazioni Tu devi soltanto Sare zitto Perché purtroppo Non puoi fare niente Ma comunque Con mazzi Non troppo sbroccatissimi Puoi tranquillamente Dire la tua Farti magari Il mazzo Che più ti piace Con le staple budget Che più ti piacciono E quindi Vai tranquillo Secondo me Vai tranquillo Quindi non c'è tanto Da farsi delle Paranoie Ovviamente Se uno vuole giocare Più competitivo Deve alzare Come sempre L'asticella Devi avere Determinate Steppe Determinate carte E conosce anche Bene il metagame Che Alla fine Potrebbe essere Anche Potrebbe anche Risultare Determinante Detto questo Fatemi sapere Cosa ne pensate Se avete Mazzi for fun Con cui vi Avete avuto Tante soddisfazioni Noi come sempre Ci vediamo Nel prossimo video E un saluto a tutti